Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a sfogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 4, versi 22 a 24